che volete che vi dica che è finita già lo dite voi no qualcuno me lo dice da tempo lo scudetto l'inter l'ha già perso da tempo addirittura dal derby quando c'erano tutte le possibilità di rimediare e quindi che volete che vi dica che è finita visto che i nostri competitor principali milan e napoli hanno vinto e probabilmente la juventus batterà la salernitana e si avvicinerà ancora però ci siete già voi a dire che è finita lo dite da tempo avevo capito l'avevo intravisto certo se andiamo avanti così è finita sicuramente già oggi con davanti tra l'altro una sosta è stata un'altra picconata sull'ambizione di scudetto dell'inter mi sembra abbastanza logico il napoli ha vinto ancora di misura con spalletti che era sotto con l'udinese che però a usci men lasciamo perdere che nella prossima squalificata in ogni caso con una doppietta di usci men la ribaltata ha cambiato modulo nella ripresa e quindi il napoli dopo il 2 a 1 di verona ha messo in fila un altro 2 a 1 comunque importante casalingo con l'udinese e il milan è al terzo 1 a 0 consecutivo dopo quello nello scontro diretto con il napoli ne ha messo in fila altri due con l'empoli e quello quello importante a cagliari e quindi è un milan di corto muso come dico è un inter di musi lunghi perché poi alla fine è l'unica che non ha vinto è l'inter un altro 1 a 1 il secondo consecutivo ricorderete forse che avevo detto per essere fuori dalla crisi non mi bastano i cinque gol alla salernitana anche la vittoria di prestigio ad anfil dovevamo fare sei punti con torino fiorentina ne abbiamo fatti due e quindi ragazzi è sempre più lecito parlare di crisi di una crisi che è tornata se mi consentite non solo psicologica ma anche un po fisica e devo dire che anche poi simone inzaghi mi sembra che l'abbia anche ammesso la squadra non è più brillante la squadra non riesce più a fare certe cose cioè lautaro torna a essere imballato gecko gioca per la squadra ma correa e sanchez entrano ma non ti cambiano le partite non lo so se noi vogliamo dire che tutto spiegabile con l'assenza di brozovic ma secondo me commettiamo un errore fondamentale perché sennò allora evidentemente se noi siamo così dipendenti da un giocatore da non riuscire più a battere nessun avversario evidentemente evidentemente non siamo una squadra di vertice ma io questo non voglio crederlo al proposito c'è la noglu c'è la noglu lo ha sostituito meglio sicuramente di quanto non avessero fatto vessino col torino e prima barella con il sassuolo però adesso comunque brozovic non andrà via con la nazionale starà insomma adesso per un bel numero di giorni ad allenarsi tornerà in grande spolvero per juventus inter una partita naturalmente che potrebbe determinare visto che il milan gioca col napoli il milan gioca scusate col bologna mentre il napoli a bergamo forse avrà qualche problema in più però potrebbe ancora consumare un ulteriore distacco dai rossoneri che ripeto non sono fenomeni non entusiasmano ma vincono uno a zero anche il napoli vince di misura l'unica che non vince è l'inter spiegazioni non so quali possano essere perché ripeto smetto di capirci qualcosa mi hanno raccontato che in questa settimana il gruppo c'era la grigliata tutti insieme tutti insieme uniti per ritrovare la brillantezza però questa brillantezza ragazzi non c'è stato il primo tempo con la fiorentina è stato più viola naturalmente che nerazzurro e subito abbiamo abbiamo rischiato guardate mi sono segnato un po di cose mi ha rischiato subito con gonzalez poi abbiamo avuto una sola occasione barella per geco la parata di terracciano ma il finale è stato viola a un certo punto sembrava un tirassegno prima due respinte in aria poi altre quattro devo dire che poi poi nella ripresa abbiamo anche beccato il gol con perisic che è stato quasi un po preso in giro in copertura da gonzalez è messo al centro per torre a 1 per torre era 1 a 0 però lì lo stesso perisic poi era riuscito a mettere una bella palla al centro per dunfris ed è stato 1 a 1 da lì abbiamo avuto un po di vigore no l'azione personale di perisic la richiesta di un rigore francamente venuti lautaro che controllato al var credo abbiano fatto bene chiffi l'arbitro e valeria non dare e poi la girandola di sostituzioni sono entrati praticamente tutti no che dovevamo fare in quel momento entrato gosse entrato correa addirittura entrato caissedo negli ultimi minuti entrato sanchez si c'è stata la grande occasione nel finale di sanchez però non è che sempre ti va bene come era successo col torino e lì minkovic ha deviato e non posso neanche dire che ci siano segnali così negativi per quanto ci riguarda oltre il fatto che camminiamo mentre gli altri corrono perché se vi ricordate insomma dal punto di vista arbitrale siamo stati molto fortunati per non dire graziati col torino abbiamo raccolto il pareggio nei minuti di recupero con sanchez e guardate che anche la partita con la fiorentina se il tanto vituperato da parte vostra andanovic al minuto 94 non fa una parata straordinaria sui con e noi perdiamo anche questa partita cioè ne perdiamo questa partita quindi ci sono dei segnali che incredibilmente sembrano tenerci ancora in corsa però camminiamo mentre gli altri corrono questa è la verità oggi la classifica dice milan 66 napoli 63 inter 60 si va bene se recupera col bologna va al 63 ha un potenziale secondo posto la juventus ripeto dal 56 sale al 59 e c'è da temere ovviamente anche il sorpasso della juventus alla ripresa no perché insomma juventus intera una partita francamente molto a rischio per come siamo messi noi voi direte messa male anche la juve ma la juve in campionato vorrei ricordare che dall'inizio dell'anno ha fatto qualcosa come dieci punti più di noi esattamente come il napoli come il milan cioè l'inter dall'inizio del 22 del del 2022 e a 14 soli punti al decimo posto ne fatti più la fiorentina e francamente non non riesco a capire al di là dei meno 6 dal milan sempre virtuale ma comunque sono meno 6 che cosa ci potrebbe scuotere adesso c'è la sosta e però sapete che palle aspettare juventus inter quando tutti gli altri hanno vinto perché ci metto anche la juve che vincerà ma poco importa hanno vinto milan e napoli e l'inter è l'unica che non ha vinto e la sosta comunque di solito crea dei problemi anziché risolverli perché hai gli argentini che vanno via i cileni che vanno via i nazionali che comunque saranno impegnati in questa impresa chiamiamola così in queste due partite che ci devono obbligatoriamente portare come nazione ai mondiali del catar non lo so io non ripeto già siete voi che mi dite che lo scudetto è perso che è finita eccetera me lo dite da tempo dal derby perso io continuo a pensare invece che non può finire così che non può chiudere la stagione con tutta questa serie di pareggi l'inter andando veramente a due all'ora io voglio sperare insomma che la sosta in qualche modo che normalmente crea dei problemi ci porti un'inter rigenerata non mi arrendo anche se tutti i segnali li vedo è li vedo anche altrui depongono a favore di un passaggio di testimone per lo scudetto di uno scudetto che sembrava già vinto non è così adesso sembra già perso è vero però scusate vi arrendete già tutti no sembra un po arrendersi anche la squadra io preferisco non arrendermi e vedere veramente come va a finire ciao un saluto a tutti viva l'inter e speriamo di riprendere prima o poi a vincere anche noi perché altrimenti ragazzi è durissimo vincere vincere